Voglia, cara Angela, ricevere i miei più cordiali saluti, che le porgo non solo in qualità di ministro, ma anche come padre, con l'impegno a proseguire il cammino intrapreso da questo governo, perché PCTO e sicurezza viaggino di pari passo. Io credo che il ministro abbia centrato l'obiettivo e finalmente da parte del governo c'è questa apertura e speriamo. Oggi è un grande segnale, anche questo. Quindi speriamo, speriamo perché la famiglia merita attenzione. Grazie a tutti.